Un altro film italiano limitaneo per tematiche e per come è stato concepito, non proprio pulp ma sicuramente dramedy con atmosfera un po' noir, sulfure, che ha avuto all'epoca dei risultati del botteghino incoraggianti eppure dei premi. Nel 1990 ha vinto il Festival Internazionale di Cinema di Venezia il premio Settimana Internazionale della Critica e nel 1991 il Davide Di Donatello come migliore regista esordiente a Sergio Rubini e migliore attrice protagonista a Margherita Bai, ma che è stato un po' dimenticato, anche sul tubo c'è un solo video dedicato, sottotitolato in francese, ed è strano anche in virtù della popolarità di protagonisti, quali appunto Rubini, il Labai, il compianto Fantastichini. Per carità è fisiologico col tempo, ogni esperienza ha la sua parabola, ma insomma un film che vogliamo risegnalare alla generale disattenzione è La Stazione. La Stazione, il primo lungometraggio del 29enne Sergio Rubini, che è la versione cinematografica dell'omonimo apisteatrale di Umberto Marino, regista poi di Cuore Cattivo nel 1995 con Kim Rossi Stewart, e che qui partecipa alla sceneggiatura assieme a Rubini e a Filippo Ascione. Rubini era allora un attore pugliese, stiamo parlando del 1990, un attore pugliese di teatro e cinema, già con 15 film all'attivo, come attore che aveva già lavorato anche con Fellini, che gli aveva dato una specie di credit card spendibile, anche per tutti quei giovani registi che stavano cominciando a decollare negli anni 90. Il timido, veniamo alla trama, il timido impacciato capostazione Domenico vive da solo nella sua mini postazione di lavoro, quasi isolato nella campagna pugliese. Ma una notte buia e tempestosa, solita notte da trecenta, questa routine si spezza. Nella stazione piomba una giovane bella donna sconvolta. È fuggita da una villa poco lontano dove durante una festa il suo fidanzato ubriaco ha incominciato a maltrattarla. In attesa di un treno che ci sarà la mattina alle sei, la donna instaura con il giovane un certo rapporto, c'è un certo legame, ma il violento compagno di lei ha in mente di presentarsi alla stazione ferroviaria con intenti rapaci. Domenico diverrà vittima di un assedio sentimentale e fisico che lo cambierà profondamente. I tre interpreti, riconfermati dal teatro al cinema, sono bravissimi e tutti in parte. La pista era stata portata a giro per l'Italia per tre anni. Margherita Bui nel ruolo della bella e ricca Flavia in un look alla Madonna di Material Girl sensuale e intensa. Fantastichini, grande perdita per il cinema italiano che tratteggia perfettamente un energumeno dagli istinti belluini da sopraffattore. E Rubini che si distreggia alla perfezione fra la timidezza e l'impaccio del personaggio e la sua naturale esuberanza recitativa. Insomma, un film che rispetta le unità aristoteliche di spazio e tempo e azione, ben recitato, ricco di spunti e però con una regia ancora abbastanza acerba e estatica. Con un finale che sembra rimandare a travolti da un solito destino nell'azzurro mare di agosto della Vermuller del 1974. Interessante e opprimente la luce notturna di Alessio Celsini-Torresi, musiche accennate di Antonio Di Pofi. Adesso sentiamo Rubini in un'intervista come si sentiva Rubini ad essere regista esordiente. Mi sentivo un usurpatore, dice Rubini in un'intervista, perché non avevo studiato da regista. Nei miei sogni iniziali poi non c'era quello della regia. Diciamo che sono stati un po' il corso degli eventi che lo ha portato a diventare regista. Oppure anche il discorso che fa in Italia, un comico, un attore, anche se lui non è comico, ma sa esserlo benissimo perché è un attore con tantissime sfumature, bravissimo ragazzi, Rubini non scherziamo, un film l'attore solo deve produrre da sé. Beh, oggi in America per esempio la prassi. Quante volte vediamo gli attori principali di serie tv che appaiono anche nei credits come produttori esecutivi di quello che stanno rappresentando. Rubini da attore alla predilezione per gli attori, è molto attento agli attori, ha fatto film degnissimi, interessantissimo anche La Bionda del 92 che è subito il film dopo di questo, dopo due anni. Anche lui, anche questo, anche La Bionda lo recenseremo perché è un film molto particolare, molto di atmosfere come la stazione, assolutamente l'atmosfera è assolutamente presa in pieno, è un film che ci ha colpito tantissimo, sempre di Rubini, La Terra del 2006 con Bentivoglia e Solfrizzi. A proposito di Solfrizzi, compare qui in piccoli ruoli anche il duo pugliese Tote e Tata, Solfrizzi, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Stornaiolo fantastissimo, ricordiamo in un altro film sottovalutato ma divertentissimo che è Mare del Sud di Marcello Cesena, quello di sensualità accorte, Jean-Claude. Recenseremo anche Mare del Sud, altro film che non ha avuto la giusta attenzione, che pur essendo il remake di un film tedesco ci ha colpito tantissimo per quanto era ben fatto e esilarante. Con un abbandonato, un mattatore assoluto, altro film sottovalutato. La stazione fu girato quasi interamente in Puglia, all'interno della stazione di San Marco in Lamis, delle ferrovie del Gargano, un luogo che sembra evocare la fortezza bastiani del deserto dei Tartari, di Buzzati, con molta menoposia anche per il fatto che qui i Tartari a un certo punto arrivano sul serio. Da vedere o rivedere a seconda produce sempre la Fandango di Domenico Procacci, la stazione da vedere assolutamente.